La Commissione ha visto il vostro curriculum, ha ascoltato l'esame finale, pertanto per vi proclamiamo dottori in comunicazione pubblica di impresa, scienze e tecnologie a seconda del vostro ordinamento con i seguenti punteggi. Gabriele Anello 103 su 110, Davide D'Alonzo 96 su 110, Federica Di Lorenzo 100 su 110, Profeta di Molfetta 102 su 110. Grazie.